Venerdì 30 agosto, buongiorno, sono le 7 del mattino, l'appuntamento è quello dei giornali, leggeremo insieme le prime pagine, andremo a vedere interviste, approfondimenti e quant'altro di quanto è avvenuto nelle prossime ore e soprattutto di quanto avviene nelle prossime ore. Allora c'è molto spazio per quanto riguarda la politica perché questa mattina c'è un vertice di maggioranza, Meloni e Salvini, Tajani e poi subito dopo c'è il primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. Sono molti i dossi aperti sul tavolo del governo, naturalmente uno su tutti è quello del candidato per la Commissione europea come commissario naturalmente e con insistenza ormai sembra quasi certo il nostro nome e quello espresso dal governo italiano è quello dell'attuale ministro Fitto. Però andremo a vedere anche quali sono gli scenari che poi si prefigurano con lo spostamento a Bruxelles del ministro Fitto. E poi abbiamo molte notizie anche per quanto riguardano le questioni estere a cominciare dal Medio Oriente. L'ONU ha fatto sapere di aver raggiunto un'intesa con le parti in conflitto a Gaza per consentire almeno con una pausa umanitaria di circa 72 ore la vaccinazione di molti civili che si trovano in quelle zone. Poi c'è l'Ucraina. Ieri se ne è parlato al Consiglio dei ministri degli esseri informali, cioè non è stata presa nessuna decisione ufficiale, ma sul tavolo c'erano molte questioni tra cui l'Ucraina a proposito del fatto di eliminare o meno togliere le restrizioni che consentirebbero all'esercito di Kiev di utilizzare le armi occidentali anche in territorio russo. Questo e molto altro ancora occupato le prime pagine dei giornali. Come sempre facciamoci aiutare dal Corriere della Sera. Il titolo in alto lo vediamo sulla politica. Meloni, il vertice di oggi con gli alleati, poche risorse, basta sventolare bandierine. Vi segnano tra l'altro che troviamo sui giornali, ma ci aiuterà molto anche Repubblica, questa polemica innescata proprio dal titolo di Repubblica. Ieri a proposito dell'assegno unico, Repubblica sostanzialmente ha scritto che il governo lo avrebbe tolto, uno dei primi provvedimenti nella manovra, invece ieri proprio con un video la Meloni ha smentito. Insomma andremo a vedere che cosa si dice in proposito. E poi conti e crescita, appunto i contatti estivi, Roma-Bruxelles. E ancora a proposito dell'autonomia c'è una lettera del sindaco di Milano, Beppe Sala, perché da Milano dicono a questa autonomia? E di autonomia, ma non soltanto parla anche Verdelli, Carlo Verdelli nel suo editoriale. In realtà parte, parlando di molte questioni aperte, per andare alla fine a parlare dell'onorevole Vannacci, generale appunto che conosciamo e che sta facendo parlare molto di sé. L'Europa certo che non si accontenterà di sforbriciata la spesa, ma pretende riforme strutturali che garantiscono la sostenibilità del nostro debito pubblico, poi lo spettro dello Iuscole e ancora stipendi, pensioni, giustizie e carceri, più l'ombra non trascurabile di un referendum appunto sull'autonomia differenziata. Altro, eh sì, c'è anche dell'altro, dalla lunga fila, dice, spunta vissoso il tessone di Roberto Vannacci, ma nonostante il generale non faccia molto per nascondersi, il suo agitarsi non pare preoccupare troppo la maggioranza di cui appieno il titolo fa parte. E di questo e altro ancora parla naturalmente. Il titolo centrale, come vi anticipavo, è sulle armi a Chiefe, l'Ite in Europa, Borreye, che è l'alto rappresentante proprio di Bruxelles, dice, via i limiti, sanzioni ai ministri israeliani, Budapest e Follia, no di Tajani. Tajani che parla con Paola Di Caro, che lo intervista, lo troviamo a pagina 3, parla anche di Ucraina e di Medio Oriente, dice, su Ucraina e Medio Oriente noi siamo seri. Allora, l'inizio di questa intervista, che poi andremo a vedere, la posizione dell'Italia è equilibrata e responsabile. Siamo con Chiefe, senza se e senza ma, abbiamo fornito aiuti militari, lavoriamo per una conferenza di pace, ma non siamo in guerra contro la Russia. Questo è quanto dice Tajani. Il resto ancora un attimo sulla prima pagina per parlare anche delle Paralimpiadi che ieri sono iniziate in Francia. Pioggia di medaglie è già a festa azzurra. Primo podio dal ciclismo, ori nel nuoto. Mattarella, che è voluto essere lì con i nostri atleti, dice grazie per ciò che fate. Andiamo a vedere allora la Repubblica, vi dicevo, dell'assegno unico. Eccolo qui il titolo. Torna nuovamente sulla questione. Scontro sull'assegno. La Premier Meloni attacca Repubblica sulla revisione del contributo per i figli e le famiglie di fidate di fantasia. Ieri appunto la Meloni insieme al Ministro Giorgetti ha reso pubblico, ha postato come si dice un video nel quale appunto smentisce questa ricostruzione. Sostanzialmente dice noi non abbiamo ancora iniziato la discussione sulla manovra e già Repubblica titola dicendo vogliono togliere l'assegno unico. E allora però il giornale diretto da Molinari replica, dice accusa l'Unione Europea chiedendo di estendere l'assegno ai migranti lo uccide. Ma l'opposizione in calza venga in Parlamento. E poi c'è un'intervista anche a Elis Line. Ieri era in Toscana, era a Siena, dice disfano misure giuste, allarme questione sociale e caro vita. Nella foto il Ministro Fitto. Eccolo qui allora. Fitto prepara le valigie ma non sa la destinazione. E ancora vediamo però sulle questioni degli esseri. Tregua Gaza per vaccinare i bambini contro la polio. E poi c'è un'intervista, per la verità intervistata da alcuni quotidiani perché si trovava a Venezia, Ofra Winfrey, lo sapete una delle star televisive statunitensi. Uno sostiene Kamala Harris che nella notte ha concesso la sua prima intervista alla CNN. E allora vedremo che cosa ha detto. E comunque le dice con Kamala l'America può sperare. Leggiamo però cosa scrive Francesco Bale nel suo editoriale a proposito di fake news. Ci risiamo ancora una volta presi con le mani nel sacco le sorelle fratelli d'Italia. Quindi è facile intuire che interviene a proposito della polemica sull'assegno unico. E allora le sorelle fratelli d'Italia se la prendono con i giornalisti. Sarebbe una fake news aver scritto che il governo sta pensando di dire addio all'assegno unico per i figli. Misura Erga Omnes creata dal governo Draghi nel 2022. La ministra della famiglia Rocella ci accusa addirittura di procurato allarme. Eppure basterebbe leggere quello che gli stessi esponenti della maggioranza hanno detto e dicono di questa misura per capire che la notizia è assolutamente confermata. Quindi ne parleremo ancora per qualche giorno. La stampa è il titolo sulla manovra. Manovra Meloni frena Salvini. Avviso alla Lega su pensioni e balneari. Sono gli altri dossier sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi. Sgravi fiscali. Caccia 2 miliardi e mezzo. Oggi ci ricordo appunto vertice di maggioranza. C'è un colloquio sempre con Elish Line anche sulla stampa. Sull'economia la destra dice è senza idee. E poi a proposito di migranti se ne torna a parlare con una certa esistenza perché ce lo fa intendere questo titolo. Berlino sfida Roma. Vi ridiamo i migranti. Andremo a vedere che cosa vuol dire questo. E sotto però vi segnalo anche questa lettera di Marco Follini. Se la Chiesa nelle urne pesa sempre meno. Parla non soltanto di migranti ma anche del rapporto tra governo e cattolici. Spostiamoci a sinistra della prima pagina. Domenico Quirico ci parla di Ucraina, di Kiev e di armi come io ho detto che vorrebbero o meno far utilizzare l'esercito ucraino in territorio russo. Ci sono ovviamente non c'è unanimità come ha confermato ieri il Consiglio dei Ministri degli Esteri europei. Allora supermissili di Kiev, l'Unione Europea è divisa, no dell'Italia e il Putin ferito adesso fa più paura. Vi segnalo questa interessante analisi di Ettore Esequi a proposito di Cis Giordania e di Medio Oriente. Spiega perché ora Netanyahu sta attaccando in Cis Giordania. Andiamo a vedere del sole 24 ore. Il titolo in alto, vedete l'OMS a Gaza pause umanitarie limitate per vaccinare i bambini e poi però c'è anche Ugo Tramballi che conosce molto bene quell'area. Nel titolo della sua analisi la brutalità del metodo Gaza è stesa al fronte in Cis Giordania perché sembra che adesso si stia spostando lì il fulcro proprio del conflitto. Il titolo centrale però del sole 24 ore sulla manovra. Il debito è la vera sfida. Vediamo nei sommari. Extra gettito fiscale e crescita del prodotto interno lordo potranno ridurre lo stock da record. Le proi prioritaria la replica di un anno per i tagli al cuneo fiscale e per quelli dell'IRPEF. Ancora da attuare 71 decreti delle vecchie manovre per sbloccare 1,4 miliardi. Ci parla però anche di Balneari. È un altro dei dossier caldi che si troveranno oggi a Palazzo Chigi e al Consiglio dei Ministri. Trattativa finale per il rinvio al settembre 2027. Mi fermo qui. Linea alla regia e ci vediamo subito dopo. Riprendiamo la lettura dei giornali. Vi aspettiamo. Siamo qui. 7.15 ben ritrovati. Allora un flash. Chiedo alla regia Minicucci cortesemente di mandare in onda le immagini del circuito internazionale. Quella che vedete è Jenin. Stiamo parlando di Medio Oriente, Cisgiordania, dove si concentra da 48 ore il fulcro delle operazioni militari dell'esercito israeliano. Quello che vedete arriva in diretta da Jenin, una delle città assediate dall'esercito israeliano. Rientriamo in studio perché andiamo sul Fatto Quotidiano, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, a pagina 3. Speriamo di avere il tempo di leggere. C'è un'intervista all'ex primo ministro israeliano Olmert. E allora il titolo della sua intervista è questo. Per finita con Bibis, le Benetaniao dice E la guerra si dimettano tutti. Questo è quello sostanzialmente che chiede in questa intervista che troveremo poi alle pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano. Scendiamo in basso. Questo titolo con questo fotomontaggio. Nessuna spiegazione agli alluvionati fregati. Il governo tace, lo staff di Lollo Brigida non risponde a nessuno. Parliamo degli alluvionati del Romagna. Chiedono notizie sui criteri per i ristori in vano. Un imprenditore con 80 mila euro di danni dice Io ho liquidato con una mail e zero rimborsi. Questo è quanto appunto riporta il Fatto Quotidiano. Andiamo sul foglio. Si occupa di questioni di politica. Si occupa di Fitto. Gioca con le parole il direttore Cerasa a svelare il mistero Fitto. Perché l'indicazione di Fitto per la Commissione è un test di credibilità per la classe dirigente meloniana. Ma è anche un pugno in un occhio per l'opposizione antifascista e per l'oscena repubblica fondata sull'agonia. A sinistra invece parliamo di Ucraina da un punto di vista anche dell'Unione Europea. Allora, Kuleba è il ministro degli esseri, eccolo qui, di Kiev. E Borreie, che è l'alto rappresentante dell'Unione, dice Danno la sveglia all'Unione Europea lenta sull'Ucraina. L'Italia contro l'utilizzo delle armi in territorio russo, lo ha ribadito il nostro ministro degli esseri italiani. Orbán invece è lungherese, dice sempre più ostile. Francia e Germania distratte. Però il Foglio ci riporta anche una notizia che alcuni giorni fa si è schiantato un F-16. Sono gli aerei forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina e purtroppo è morto anche il pilota. Andiamo a vedere il domani. Cis Giordania, Israele non si ferma e poi scontro nell'Unione Europea sulle armi a Kiev. Nuovi attacchi del IDF, sarebbe l'esercito israeliano nella West Bank e quell'area proprio della Cis Giordania. Guterres, il segretario dell'Odice, condanno la perdita di vite umane e anche di bambini. Borreia apre all'uso di armamenti europei da parte dell'Ucraina e Russia. In realtà ha chiesto che vengano rimosse le restrizioni ma non è stata presa nessuna decisione. E poi Italia e Ungheria dicono sconsiderato. Andiamo a vedere il giornale. Colpire la Russia, Europa divisa, vedete si torna sempre su questo tema. Borreia spinge per i re di Kiev oltre confine. Il no di Budapest e poi il governo smentisce la fake, quella attribuita appunto a Repubblica. Dice non tagliamo l'assegno unico. E poi il gran giorno di fitto, l'ultimo balzo del centro sovranista. Vediamo libero. La bufala rossa si torna sulla polemica con Repubblica. Repubblica spara, cancellato l'assegno unico. Il governo smentisce, falso come lo sbarco dei marziani. Ma la sinistra se ne frega e continua a spacciare la notizia. C'è un'intervista di Pietro Senaldi a Marco Minniti. A proposito del piano Mattei ci spostiamo quindi nel Nord Africa. La via italiana, modello in Europa sull'immigrazione. Quindi si torna a parlare di migranti. Andiamo ancora avanti. Il manifesto, a piccole dosi, tregua di sette giorni a Gaza per le vaccinazioni, parziale limitata solo in certi luoghi. Ma tregua, dove l'ONU non può, un negoziato fantasma non riesce e gli usa non osano. Arriva la poliomelite. Netanyahu e Hamas dicono sì ai corridoi vaccinali. Ma Israele continua ad attaccare la Cis Giordania. E poi sotto governo, casse vuote e nervi tesi. Vedete in questo fermo immagino la Menoni con il ministro Giorgetti. E poi il ritorno di Shlain, ieri alla festa dell'unità in Toscana. Autunno di lotta sulla manovra. Vediamo l'avvenire. Sussulti di umanità. Prove di accordo sulle mini tregue sanitarie nella striscia. Parliamo di Gaza per le vaccinazioni antipoglio. Sì di Tel Aviv che però continua l'invio di truppe da Hamas. Cessate il fuoco per sette giorni. E in questa foto vediamo un'auto elettrica. Allora a proposito di mobilità ci dice, scrive a Venire, che Berlino guida il calo del mercato nell'Unione Europea. L'elettrico in retromarcia. Vediamo il tempo come apre. Jobs Cracked. Questo è il titolo sulle tre foto di Conte Renzi e Shlain. Perché il referendum contro Renzi può diventare l'arma di Matteo per riprendersi un pezzo del PD. Da Cuperlo alla sinistra d'Emma è già guerra al patto con Eli. E poi la grande bufala dell'assegno unico, Meloni, dice resterà. Andiamo a vedere la verità come apre l'undicesimo comandamento e accogliere ecco gli edifici del Papa da usare. Capite che stiamo parlando di migranti. La Chiesa possiede molti conventi e grandi seminari non utilizzati ma non li mette a disposizione di migranti. preferisce trasformarli in hotel di lusso tra parentesi Milano o fare concorsi di idee Verona. Noi un'idea ce l'avremmo. E poi questa immagine è lo yacht a Vene, il Baie Stan. Allora il comandante dello yacht via dall'Italia bisognava ritirargli il passaporto. Chiudiamo la lettura delle prime pagine con la gazzetta dello sport. Nuova Champions, super sfide per le nostre cinque che botti. Questo è il titolo appunto della prima pagina. Andiamo adesso negli approfondimenti. Partiamo naturalmente dalla politica. Andiamo a pagina tre della stampa. I paletti di Meloni. Questo è il retroscena di cui escrive Francesco Olivo. La Premier, tema guati degli alleati sui balneari. Lo sapete sulle concessioni, niente emendamenti. Oggi è al vertice perché appunto c'è un vertice di maggioranza che precede poi più tardi un Consiglio dei Ministri. Stop alla Lega sulle pensioni. Si riapre la partita ligure, cioè del successore di Giovanni Totti alla guida della Regione. Però nel dettaglio vediamo in questa grafica quali sono i dossier aperti sul tavolo. Nominerai, balneari, elezioni regionali, ius scuole, legge di bilancio e pensioni. E poi nei sommari Salvini minaccia Tagliani. Il Governo va avanti solo se si rispetta il programma. Quindi occhi puntati su quanto accadrà oggi a Palazzo Chigi. Andiamo sul Corriere della Sera. Andiamo a pagina nove. Manovra è uno degli impegni, dei dossier più importanti del Governo. L'effetto tesoretto può anticipare parte della spesa. e poi torna nuovamente sulla notizia ieri messa in prima pagina in grande evidenza dalla Repubblica. Dice falso che si voglia abolire l'assegno unico. Lo difenderemo in Europa. E poi in questa grafica le manovre degli ultimi governi. Sotto il retroscena di Federico Fubini, Italia e Unione Europea vicine, ma sul piano di crescita ora serve una strategia. I contatti in estate tra Commissione e Roma. Fubini ci racconta appunto qualcosa che non abbiamo letto poi apertamente sui giornali. Sempre sul Corriere della Sera, dal punto di vista però del PD, ritorna Schlein al turno militante. Noi divisi l'avversario del Governo. La segretaria del PD dice non perdo tempo con le polemiche. Letta su Renzi, io mi fido di Elice. Sul fatto appunto di allargare questa alleanza anche a Matteo Renzi. E ieri appunto la Schlein si trovava in provincia di Livorno a Campiglia Marittima. Andiamo ancora avanti perché si parla di Fitto in particolare. Vedete Meloni qui in sedi europee o comunque con la Schlein e poi con Orban. E allora l'apprezzamento per Fitto e la scelta di non far pesare le tensioni del passato è il piano di von der Leyen. L'idea di varare più vicepresidenze e questa sarebbe una chance in più per l'Italia. Naturalmente si traccia un po' il perimetro nel quale dovrebbe essere chiamato alla fine ad operare il nostro attuale Fitto. Fitto che vedete qui con il commissario uscente Gentiloni. Allora Europa è il giorno di Fitto. Lo trovate sulla stampa a pagina 4. Le deleghe del Ministro resteranno a Palazzo Chigi. Ecco allora che cosa può succedere nel caso Fitto si trasferisca appunto a Bruxelles. Il Ministro Fitto concentra tre delle deleghe più importanti affari europei, sud e fondi europei di coesione il coordinamento del piano europeo di ripresa e resilienza. Chi può sostituirlo? È probabile che la Premier Meloni terrà in capo a sé la delega agli affari europei al limite nominando un sottosegretario e così potrebbe andare per le altre. L'obiettivo è non spacchettare le varie competenze. Questo appunto è lo scenario che si verrebbe a delineare. Andiamo ancora avanti. Andiamo su Repubblica a pagina 3. C'è un'intervista a Elislein. E allora, destra settaria, disfano misure giuste per piantare bandierine. La priorità è il caro vita. E allora sarebbe sbagliato minare la dimensione universalistica dell'assegno. Il PD lo difenderà con forza. E ancora, sempre nei sommari, per una questione pratica, non possiamo leggere tutta l'intervista, devono presentare il piano fiscale entro il 20 settembre. Serviva un confronto serio con le parti sociali e con le opposizioni. E poi, a proposito di regionali, anche in Liguria, dopo Umbria e Emilia-Romagna, troveremo una soluzione. Sono fiduciosa che lo faremo a breve. Andiamo ancora avanti. Cambiamo argomento, naturalmente. Vi segnalo questa intervista, però l'ha concessa anche ad altri quotidiani, di Ofra Winfrey. Kamala, parla di Kamala Harris, che nella notte è stata intervistata dalla CNN, la sua prima intervista da candidata democratica. Sembra che resti confermato, invece, per così dire, il duello televisivo con Trump alla ABC per settembre. Allora, Kamala ha riportato la speranza. ora ascolti tutta l'America. C'è stato, abbiamo un po' mischiato gli argomenti. Adesso ritorniamo, però, con il Corriere della Sera, con Sala. Lo dico da sindaco di Milano, l'autonomia è un danno anche per il nord del paese. C'è questa lettera proprio al Corriere della Sera. Interviene sul botta e risposta di questi giorni tra la Chiesa e la Lega. dice, non sono state ascoltate le grandi città, ora attendere il LEP. E a proposito di questioni, però si parla molto anche di migranti. Sulla stampa, migranti, Bellino, sfida Roma, Scholz, impressi su Bruxelles per la redistribuzione in Italia. Lo stop del Viminale, dice, non se ne parlerà prima del 2026. Vi segnalo, prima di dare la linea a Paolo Sottocorona questa intervista a Andrea Riccardi, senza integrazione all'Italia muore, è il momento per lo IUS scuole. Allora, io mi fermo qui, invece adesso è il momento di sapere che tempo avremo nelle prossime ore e chi meglio di Paolo Sottocorona ce lo può dire. A te Paolo, buongiorno. Grazie, grazie Fabio, buongiorno. Nuvole, non ce ne sono al momento di significative. Ieri ancora qui e là quella instabilità però si è fatta sentire nelle ore più calde con quel meccanismo ormai consueto che nel pomeriggio ci sono queste forti instabilità e poi in serata e durante la mattina non succede assolutamente nulla. Però in realtà giorno dopo giorno abbiamo visto diminuire l'estensione, l'intensità di questa instabilità pomeridiana. Previsione per la giornata di oggi. Vediamo che cosa resta. Diciamo abbastanza poco perché al centro e al sud rimane soltanto qualche traccia in Calabria sulla Sicilia orientale possibilità di qualche fenomeno anche intenso ma vedete insomma veramente voglio ricontare sono tre zone quindi insomma molto poco. Poi tempo decisamente stabile sul resto della penisola al nord ricompaiono dei fenomeni sulle zone alpine prealpine ma lì in qualche modo è abbastanza normale questa parte fra Lombardia soprattutto il Trentino e l'Alto Veneto in qualche caso si affacciano un poco più in basso ma sono casi veramente sporadici. Vediamo la giornata di sabato al sud si esaurisce del tutto questa instabilità ricompare un poco al nord vedete prende parte dell'Emilia la parte più occidentale la Liguria il Trentino Alto Adige parte del Veneto si affaccia sul Friuli Venezia Giulia Piemonte Valle d'Aosta sono fenomeni molto isolati e appunto legati soprattutto alle montagne ai rilievi però qualcosa c'è e vediamo anche la giornata di domenica in cui al sud ricompare fra Sicilia Calabria Basilicata Tirrenica qualche fenomeno anche sulle zone del Gargano al nord le zone alpine e prealpine con una maggiore frequenza di questi fenomeni del pomeriggio non è un peggioramento è una leggera intensificazione di questa instabilità chiudiamo velocemente con le le minime di questa mattina rimaste più o meno sui livelli dei giorni scorsi erano scese un poco e adesso sono risalite si sono stabilizzate su valori diciamo che per la stagione sono anche già un po' altini stato dei mari qui c'è solo un po' di vento ma neanche troppo sull'Adriatico su parte dello Ionio ma sono mari a questo punto assolutamente tranquilli e ancora molto caldi questo sappiamo che cosa può provocare se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi